La notizia diffusa a mercati chiusi sabato pomeriggio è di grosso significato, soprattutto se inserita nella tradizionale strategia aziendale che alla Banca Popolare di Sondrio ha sempre privilegiato lo sviluppo per linee interne. Oggi l'Istituto di Piazza Garibaldi comunica di avere sottoscritto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, azionista di controllo dell'omonima banca di cui detiene i due terzi, una lettera di intenti non vincolante finalizzata ad approfondire la possibile acquisizione da parte di BPS della maggioranza del capitale sociale della stessa Cassa. Fino al 31 dicembre c'è tempo per le necessarie verifiche e per negoziare con la controparte termini vincolanti e condizioni definitive per l'operazione. Gli accordi prevedono che la possibile acquisizione si articoli in due fasi. Nella prima BPS acquisirebbe dalla Fondazione almeno il 51% della Cassa di Risparmio di Cento, in parte mediante Cassa e in parte attraverso uno scambio con azioni BPS. Nella seconda andrebbe a definire le modalità tecniche per consentire agli altri azionisti e alla Fondazione per la parte residua di azioni ancora in suo possesso di scambiare o ricevere azioni BPS in cambio di quelle della Cassa, a condizioni economiche in linea con quelle applicate nella prima fase. In questo modo la Banca Popolare di Sondrio arriverebbe ad incrementare la sua quota nella Cassa almeno al 67% e potenzialmente fino al 100, assumendone così il totale controllo. La Cassa di Risparmio di Cento, nata nel 1859, rappresenta una solida realtà locale con un attivo di bilancio a dicembre 2016 di 2 miliardi e 800 milioni, circa un decimo della BPS. Opera nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna e Modena con 49 sportelli, 430 dipendenti e oltre 85 mila clienti. La Cassa, commenta la nota diffusa dalla Popolare, ha dimostrato anche nell'ultimo decennio di avere un modello di business solido e resiliente che ha consentito di produrre utili con continuità, buoni la remunerazione del capitale proprio e il rapporto impieghi lordi-credit anomali. L'operazione, subordinata alla necessaria conferma nei prossimi mesi, è motivata dalla convinzione delle due parti che l'eventuale acquisizione implicherà una sostanziale creazione di valore per entrambi gli istituti, creando un'opportunità di crescita attraverso sinergie ed economie di scala a livello di gruppo. La nota della BPS nel sottolineare i benefici di un'espansione in una regione prospera quale l'Emilia-Romagna e le opportunità di crescita per la Cassa dentro un gruppo più grande rimarca anche i rischi di esecuzione limitati, la coerenza tra le culture aziendali e i modelli di business e la complementarietà industriale, organizzativa e geografica.